Rivoluzione sul canone Rai che è stato abbassato e che lo si pagherà con la bolletta della luce. Il canone innanzitutto verrà abbassato a 100 euro l'anno, poi si pagherà attraverso la bolletta della fornitura elettrica. Dalle informazioni finora disponibili sappiamo che si pagherà solo nel 2016, la prima volta a luglio. L'importo sarà suddiviso in 10 rate mensili da gennaio a ottobre e solo quest'anno, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al primo luglio e comprenderà dunque le rate già scadute, vale a dire quelle da gennaio a luglio. C'è chi storce il naso sul fatto che l'importo del canone sarà inserito nella fattura della corrente. Sì, diciamo che la bolletta elettrica, chi ha mai provato a leggerla lo sa, è già abbastanza incomprensibile di suo. Qua ci troviamo con una nuova tassa praticamente estranea, intrufolata in questa bolletta. Dicono però che sarà ben distinta e quindi forse la trasparenza potrà essere garantita. È un po' presto per ipotizzare come saranno gli importi, come saranno frazionati. Sicuramente se ci sono problemi noi saremo a disposizione e monitoreremo da vicino la situazione. Il limite di reddito per il diritto all'esenzione della canone RAI a favore degli over 75 anni è stato elevato a 8.000 euro annui, prima era di 6.700. I possessori di seconde case con TV e chi ha più televisori in casa non dovranno pagare un secondo abbonamento. Ora la norma dice che il canone deve essere pagato da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. La novità pessima è che si presume la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Se si sono ceduti a terzi degli apparecchi televisivi o se il TV è stato portato in discarica si può chiedere ovviamente la disdetta per non pagare più il canone RAI. Disdetta che va presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso per poter poi essere dispensati dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell'anno successivo.